SG è un termine che gli italiani sentono nell'ultimo anno sempre più spesso e vuol dire, è l'acronimo di Environment, Government and Social, quindi ambiente sociale inteso come società e governo. Che cosa vuol dire? Sono quei fattori che fanno parte della sostenibilità legati alla finanza, quindi fare finanza sostenibile e perché gli italiani se ne dovrebbero sempre più occupare, perché la sostenibilità non è una moda, la sostenibilità è un presente e a mio parere è anche un futuro. E investire in maniera sostenibile è necessario perché garantisce ai clienti un rendimento non immediato ma un rendimento duraturo, perché dietro alle società che sono socialmente responsabili, che hanno una government interna con determinati criteri, che rispettano anche l'ambiente, ci sono azioni ma anche emissioni di obbligazioni e che proprio è comprovato da statistiche anche nei momenti di crisi come quella che abbiamo appena passato a dicembre 2018, hanno delle diminuzioni rispetto al mercato inferiori ma soprattutto hanno delle riprese, quindi una qualità di rendimento maggiore, in quanto oltre al rendimento vero e proprio, dietro questi investimenti anche tutti quelli che sono gli indicatori, un esempio, l'indicatore di rendimento alfa, beta, l'indice di Sharpe, l'indice di Trenor, sono notevolmente migliori rispetto ad investimenti non sostenibili. Gli italiani possono informarsi su questa tematica in vari modi, innanzitutto la stampa, devo dire che in quest'ultimo anno non si apre un giornale che non abbia la parte relativa agli investimenti sostenibili, anche perché la sostenibilità è molto trasversale, noi adesso parliamo di sostenibilità per quello che riguarda la materia finanziaria, ma anche, io vengo da Modena, quindi c'è appena stata la Motor Valley, anche per quello che riguarda i motori, le varie auto anche importanti e non solo, si parla di sostenibilità. Così come nella moda si parla di sostenibilità e sempre di più sono i brand che affiancano al prodotto, passatemi il termine normale, un prodotto ecosostenibile che va per la maggiore. Uno degli indici di riferimento a cui io mi riferisco maggiormente quando devo consigliare a un cliente il perché sottoscrivere un prodotto sostenibile anziché non sostenibile è l'indice di sostenibilità di Morningstar che noi vediamo con i famosi globi, 5 globi, 4 globi, 3 globi. Ci tengo a sottolineare che dietro questo indice di sostenibilità che ormai è stato creato circa 10 anni fa, c'è uno studio molto attento da parte della società, ma soprattutto c'è un continuo restyling perché sempre più fondi, sempre più SICAV si avvalgono di questo indice di sostenibilità e quindi nel corso del tempo questo indice è cambiato anche in base alle richieste della clientela, clientela che si deve affidare a consulenti finanziari che conoscono l'ambito delle SG perché come appunto ho detto prima bisogna spiegare, siamo noi consulenti finanziari che oltre a fare educazione finanziaria dobbiamo far capire l'importanza della sostenibilità negli investimenti e infatti le autorità competenti, Parlamento, Commissione e Consiglio Europeo non più tardi del 17 di marzo si sono riunite e hanno studiato assieme un progetto comune che porterà probabilmente a un ampliamento anche del questionario MIFID 2 con una parte relativa alla sostenibilità e quindi verranno fatte delle domande ai clienti per capire se sono sostenibili negli investimenti oppure no. I progetti in itinere di ANASF, io voglio sottolineare il fatto che ANASF sin dall'inizio ha partecipato come membro attivo al Forum della Sostenibilità e in più come formatore del progetto economicamente nonché responsabile a livello di Emilia Romagna ritengo che il poter andare ad insegnare assieme ad altri 50 colleghi straordinari sul territorio, nelle scuole, terze, quarte, quinte e superiori sia un progetto sostenibile ma soprattutto sia un progetto che riferendomi alle Nazioni Unite e ai 17 goal che le Nazioni Unite vogliono assolutamente raggiungere entro il 2030 il quarto goal riguarda l'educazione finanziaria e quindi ANASF è compliance anche con i goal delle Nazioni Unite nonché con tanti altri goal come il numero 5, il numero 8 perché mi fregio di dire che lavoriamo anche per quella che è la parità di trattamento tra uomini e donne e quindi il famoso gender gap e naturalmente un'istruzione che non sia solo rivolta di educazione finanziaria ai giovani ma in questo caso è partito da poco anche il progetto pianifica la mente che appunto ha una parte che riguarda la sostenibilità ed è rivolta agli adulti Recentemente ho fatto una tesi sulla sostenibilità perché ho finito il Master in Well Management all'Università alla Bologna Business School di Bologna e perché ho fatto la tesi? Ho fatto la tesi perché un anno fa ho dovuto studiare per un esame di Sustainability quindi di sostenibilità ed etica nel mondo finanziario e mi si è aperto un mondo un mondo però che è veramente un mondo molto vasto perché quando ho deciso di scrivere questa tesi ho iniziato a raccogliere materiale a tal proposito e devo dire che in casa mia non ci si passava più da quanti giornali, riviste, libri avevo accumulato per quello che riguarda la sostenibilità Cosa voglio arrivare a dire? Che una guida sulla sostenibilità, sugli investimenti sostenibili ESG Compliance è necessaria Diciamo che quest'anno già il Salone del Risparmio avendo come fulcro di tutte le conferenze e la discussione sulla sostenibilità sugli ESG ha iniziato a tracciare delle linee guida però non sono ancora sufficienti Un consulente finanziario che si approccia a questo mondo deve innanzitutto studiare ma soprattutto dare concretezza a tutta una serie di termini che non sono così chiari, se non sono chiari per un consulente finanziario non sono chiari neanche per la clientela Quindi il mio consiglio è capire che cosa sono gli ESG, capire come possono aiutare questi investimenti i clienti, una parte di clientela perché altri clienti naturalmente non sono sostenibili e non bisogna proporre prodotti e cercare all'interno di tutte le SICA, di tutti i fondi, di tutto quello che si può sottoscrivere come ESG Compliance quelle che sono le società che hanno una storicitata al proposito e che quindi hanno anche all'interno una serie di ricerche ma proprio anche una due diligence importante e che quindi sono all'avanguardia in questo campo Il punto che voglio regalare, i punti sarebbero tanti perché la sostenibilità come scritto appunto nell'articolo di Wall Street Italia mi ha aperto un mondo e probabilmente mi sono resa conto di essere sostenibile prima ancora di quando sono nata Infatti vengo dalla famiglia di agricoltori e mia madre ha sempre fatto ad esempio la raccolta differenziata non ha mai sprecato cibo, non ha mai sprecato i vestiti Insomma c'è sempre stato un'attenzione a quella che è la sostenibilità E cosa posso dire? Sottoscrivere investimenti sostenibili è una necessità Il cliente sostenibile è un cliente che a mio parere capisce anche di più che cosa c'è di dietro all'attività di consulente finanziario che non è un semplice proporre dei prodotti ma c'è uno studio anche del cliente stesso, dei suoi bisogni, della sua famiglia del suo futuro, del futuro, delle generazioni che girano attorno a questo cliente Quindi fare sostenibilità, fare spiegare gli SG, spiegare la finanza sostenibile diventa per noi consulenti finanziari io dico un mantra e spero veramente che anche le autorità si adeguino a questo nuovo filone che in Italia è abbastanza sentito perché circa 30 milioni di italiani amano la sostenibilità però oltre a dire che le cose si amano bisogna anche metterle in pratica e qua direi che il consulente finanziario sia nel campo economico la persona giusta per aiutare questo percorso